Non aggiungiamo niente, per favore comprate questo bietto, venite a Vio Società e portatevi il pannolone, grazie. Al teatro San De Mezio, cinema. Venerdì con l'accento, 22 gennaio. I tarmi, i soliti sospetti. Ma uno se non dì l'accento può venire lo stesso. 2016. No, 2016 non ci trattano, caro. 22 gennaio, 2016. Ah, perfetto. Cinema, teatro.